Una bistecca green per rilanciare i consumi di carne che hanno registrato il 23% in meno nella spesa degli italiani. È il progetto della filiera di carne totalmente ecosostenibile presentato a Yolanda di Savoia nella grande azienda agricola di Bonifiche Ferraresi, lanciato da Socarni e Coldiretti e che punta sulla zootecnia 4.0. Una forte azione che ha coniugato la tecnologia, l'alta tecnologia come in questa azienda è rappresentata con la tradizione di un allevamento che a Ferrara oltretutto è scomparso proprio per quello che al tavolo si è detto si è perso un conoscere anche il nostro modello di allevamento, non c'erano più le condizioni economiche di fatto per poterlo continuare ad avere nelle nostre aziende agricole, la ripresa dei lavori in quel di Yolanda di Savoia proprio dove si coniugano la tradizione con le alte tecnologie, riconsentiranno di fatto un nuovo interesse anche di carattere economico alle aziende agricole che vorranno accettare anche questo tipo di sfida di poter inserire ancora l'allevamento nelle aziende. Dal 2010 ad oggi sono state chiuse 4.000 stalle. Il numero di capi allevati in 50 anni è passato da 10 milioni a poco meno di 6 milioni con il risultato, dice Coldiretti, che l'Italia oggi importa quasi la metà della carne consumata. Per rilanciare il settore si punta sul centro zootecnico di Bonifico e Ferraresi visto come il nuovo modello italiano per l'allevamento bovino 10 stalle realizzate con tecnologie moderne ma soprattutto nel rispetto della sostenibilità. Il fatto di coniugare l'economia anche con l'ambiente, la salubrità anche dello stesso ambiente abbiamo visto e sentito come anche la stessa concimazione naturale dei nostri terreni di fatto migliora anche la situazione dal punto di vista ambientale e quindi diciamo c'è un coniugare di fattori positivi non ultimo anche quello economico di un paese che oggi è fortemente sbilanciato sull'importazione di carne. Grazie